Sono solo 37 minuti che camminiamo eh! Bellino però questo posto, mi piace, mi sta piacendo Le mie no, le mie sono asciutte Dai fai i 3 speed, vai! Davis vai a fare i 3 speed Dove? Dov'è? Qua, qua! Guarda, guarda, guarda Qua, qua! Adesso, così! Adesso! Ma prima mi sono buttato là, ho fatto un pezzettino Sara! Pausa, pausa, pausa bravo ma ditelo quando sto fermando quando sto camminando ognuno si prende una roccia stabile e si chiede oh sai che se la più altra è ancora più figa eh guarda le bollicine no ci deve essere qualcosa caldo ci deve essere qualcosa perché spicci vai lavate o lavate lavate o lavate guarda le mie guarda le mie no capito guarda le mie guarda le mie no prossimo giro andiamo in su no guarda le mie guarda le mie guarda le mie bevi bevi Sara o un cocktail o un cocktail e guarda le mie guarda le mie guarda le mie che è il tuo Grazie a tutti. 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 Lo zaino, lo zaino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dove sono? Grazie a tutti.